Sarebbe un batterio che si annida all'interno della carne una delle cause che ha portato ad una intossicazione importante purtroppo nelle menze delle scuole a Pescara. Dottoressa all'Istituto Zoprofilattico Abruzzo e Molise ha condotto delle analisi in merito a questa intossicazione. Che cosa possiamo dire? Quali sono le cause di questo batterio per la salute umana? Allora noi stiamo intervenendo in questo focolaio e con l'analisi appunto degli alimenti che sono stati prelevati dagli organi competenti che sono pervenuti, analisi che sono tuttora in corso di cui quindi non sappiamo il risultato, però cosa certa è che dalle feci invece del paziente è stato isolato Campylobacter. Quindi noi rientriamo adesso anche per questa parte perché l'Istituto di Teramo è il laboratorio nazionale di riferimento per Campylobacter e quindi i ceppi che sono stati isolati anche dai campioni umani verranno, quindi stanno già arrivando in istituto per essere sottoposti a caratterizzazione genomica e quindi per capire poi qual è stata in effetti, comparandoli con i ceppi eventualmente che isoleremo dagli alimenti, quali sono quelli interessati che hanno determinato magari la tossinfezione per risalire alla fonte di infezione. Il Campylobacter è in questo momento in Europa e diciamo un po' in tutto il mondo il batterio che determina più forme di gastroenterite nell'uomo e è un patogeno che si chiama ancora emergente, in realtà sono negli ultimi 10-15 anni che ha questo trend e nell'uomo determina soprattutto forme gastroenteriche e raramente ci sono delle sequela che possono essere più impattanti. L'alimento è vero che l'alimento principalmente incriminato, chiamiamolo così, è la carne, soprattutto carne di pollo, pollame in generale, però non è il solo alimento perché ce ne sono altri come per esempio consumo di latte non pastorizzato, anche molluschi che possono albergare, contaminati chiaramente che possono albergare il microorganismo e ultimamente anche nei vegetali, quindi è acqua non potabilizzata chiaramente, possono intervenire in quelli che sono i focolai di infezione. Quindi sono molteplici. Gli effetti sui bambini, per esempio, sulle persone, quando si smorzano di solito, dopo quanti giorni? Di solito l'infezione diciamo che è un periodo di incubazione che va da 1 a 5 giorni, dopodiché dal momento in cui compaiono i sintomi, massimo in una settimana diciamo che i sintomi scompaiono. C'è da dire che i sintomi sono molto variabili, nel senso che dipende dal ceppo, quindi dal potere di virolenza del ceppo, dall'ospite, quindi è chiaro che nei bambini, negli anziani, nelle persone immunocompromesse ha un impatto diciamo maggiore, che sono poi sintomi che vanno da una diarrea più o meno profusa, mal di testa, febbre, però sono sintomi che sono molto variabili. Chiaramente nelle classi estreme diciamo che ha un impatto maggiore rispetto agli altri. E quindi adesso vedremo dai ceppi che eventualmente isoleremo dagli alimenti e diciamo dall'indagine epidemiologica che in questo momento sta conducendo insieme a tutte le altre unità regionali di sanità che sono implicate, il nostro COVEPI che è il centro di osservatorio per l'epidemiologia e poi le sequenze genomiche che faremo di questi ceppi che ci porteranno a definire il focolaio e quella che oggi si chiama epidemiologia molecolare e quindi risalire possibilmente alla vera fonte di infezione.